Il Papa quando ha saputo che la nostra diocesi di Arezzo, Cortona Sansepolcro, è la prima in Italia che gli ha preso in parola di far arrivare almeno il testo del Vangelo a tutti, ci ha scritto una bella letterina che abbiamo pubblicato in prima pagina. 50.000 copie del Vangelo edizioni paoline che le famiglie arettine della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro riceveranno in regalo nell'anno giubilare della misericordia. Ecco la prima bella notizia annunciata dall'arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana nel consueto incontro con i giornalisti in occasione di San Francesco di Sal, patrono degli operatori della comunicazione. E poi tante altre novità tra cui il progetto Policoro per il lavoro dei giovani, un festival nazionale della comunicazione e notizia delle notizie, l'ingresso gratuito nella Basilica di San Francesco non solo nell'anno giubilare per coloro che non accederanno alla Cappella Bacci. La soluzione sarà sempre di aprire la chiesa, non nell'anno giubilare, sempre sarà. Ora, le forme con cui noi siamo pacta sunt servanda, c'è stata una convenzione, c'è una cosa, bisogna dare vie diverse, cioè i turisti e i fedeli entrano, chiunque deve poter entrare. Il vescovo torna anche sul tema della chiesa agli archi, un progetto per ora in stand-by, ma non del tutto tramontato. E' un progetto che è stato presentato alle legittime autorità, lì sta, come Stabat Mater, Justa Crucem. Ecco, allora, lì sta.